Ciao, 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 ciao a tutti, 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 tutti Ragazzi, ragazze, benvenuti o benvenuti in un nuovo, bravissimo Vedi, 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 vedi con l'estate, io spero molto, 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 bene Allora, intanto, prima di iniziare questo video, mi devo scusare per questa cosa che ho sulla bocca Ma non posso mettere prodotti labbra fino a che mi guarisci anche perché mi dà proprio fastidio metterci qualcosa Quindi non metterò prodotti labbra fino a che questa cosa non scompare E allora, il video di oggi è un video molto, 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 molto speciale E comunque stavo pensando di portarvi molti più video sul canale in questo periodo difficile Così da supportarci a vicenda Io comunque ho molto più tempo libero e anche se dovrei fare molti compiti Vabbè, quelli li farò Ho molto più tempo libero e molto più ispirazione per disegnare perché no Quindi porterò nuovi video disegno e anche video dove appunto parlo Questa di sempre è una nuova postazione perché mi trovo molto, 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 molto più comoda Che era in effetto, vabbè, per registrare qui devo aspettare fino a tarta notte Perché se no ci sarebbero rumori, persone eccetera Quindi devo un po' aspettare E infatti ho un po' sonno e in realtà anche un po' fame E però vabbè che mangio a quest'ora Comunque mi sto perdendo molto, 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 molto per chiacchiere Mi stavo dicendo che voglio portare Non so se un video al giorno Video al giorno Però comunque voglio caricare Registrare i video molto, molto più spesso Per tenerci tutti in compagnia e darci supporto a vicenda Comunque non so se l'ho detto a metterlo Ho visto lo smalto È di questo rosa molto Barbie Comunque ragazzi Fatemi sapere voi come state Raccontatemi un po' qualcosa Perché mi state cominciando a montare molti messaggi su Instagram In realtà dove mi descrivete la vostra situazione Cosa state facendo E io ne sono molto, 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 molto contenta E anche di interagire con voi Di confrontarmi con voi Queste cose qui Quindi continuate Se avete qualcosa da dirmi Anche per farci una chiacchiera Per supportarci a vicenda E a me fa davvero, 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 davvero Tanto, tanto, tanto Siamo al Zucco di questo video E proprio il fatto per cui Mi sono messa qui, insomma, a registrare Oltre appunto che voglio portare Tanti contenuti, altri Tutto, insomma, per tenerci compagnia Mamma mia, comunque io Ho una fraccetta Che fa paura Allora Comunque non so se avete presente I capelli di Carla In Elite Che sono bellissimi E lei ha questi due ciuffi qui Un po' di blu Infatti non vedo l'ora che Mi crescano Tipo questo Mi ha dato un po' la stiglia Allora ragazzi E ragazzi Ha successo una cosa Wow Che io Non lo so Ha risollevato sicuramente Molto il mio periodo No? E Soprattutto il pensiero di una persona Che nemmeno mi conosce È troppo 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 strano E davvero io mai l'avrei immaginato Una cosa del genere Dalla mia wish list Amazon Un ragazzo Michael Michael Se mi stai guardando Ma sicuramente Io ti saluto tanto E ti mando un abbraccio virtuale Per il regalo che mi hai fatto Davvero Sono emozionatissima E Appunto per un ragazzo Che nemmeno mi conosce E Mi ha fatto questa sorpresa E Mi ha detto Che Sono brava E che Bravi vanno aiutati Io davvero Non so Come ringraziarti E Non so quanti Devo mi seguono su Instagram Ma sicuramente Se mi seguite su Instagram L'avrete visto E Mi ha fatto questo regalo Ora me lo prendo Allora la scatola E' questa Qui Mamma mia Davvero Io non so Come ringraziarti E Appena aperto il banco Di giro Mi sono commossa Non ci credevo Non ci credevo Infatti dicevo Ma è pesante Quando il corriere Mi ha appunto Mi ha lasciato il banco Io davvero Non so Come Diciamo come Ringraziarti Anche perché Anche perché So Il costo Di questa cosa E Ha un costo Comunque Importante E Già per me Ogni regalo Comunque È prezioso A modo suo Però questo Ha davvero Un costo Importantissimo Io ti ringrazio Davvero davvero Sto guardando Michael E Guardando Lo prenderò Cioè È Bellissimo E Wow Prima Di fare il video Lo stavo guardando Perché l'ho L'ho messo Sulla mia scrivania Perché ho detto No vabbè Questo è tipo Un trofeo L'ho messo lì E Wow Cioè Si illumina Praticamente È Bellissimo Non vedo l'ora 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 Di utilizzarlo Perché Questo funziona A USB E Io Edito E realizzo I miei video Con il mio telefono Con il mio cellulare Quindi Ho comprato Oggi Appena l'ho visto Subito Ho comprato L'adattatore Per Questo Al mio telefono E Comunque Ragazzi Ragazzi Se mai Dovessi avere Tipo Dei problemi Su Con Con Il mio telefono Io Ve lo Magari Faccio sapere In un video Oppure Le stories Su Instagram E magari Se c'è qualcuno Di voi Che se ne intende Magari Mi può aiutare Comunque Io ci provo Tanto da sola Per vedere Se ci riesco Comunque È troppo 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 Bello Io davvero Non so Come ringraziarti E Sono rimasta Davvero Davvero Svalor Di Quello Che è arrivato In questa Bellissima Tostina Davvero Io Davvero Io ti ringrazio Questo video Infatti Lo voglio Modificare Interamente A questo Microfono E A dirvi Che Grazie A Michael E Ci saranno Prestissimissimissimo Video Anzi Tutti i video Saranno Con Questo Microfono Grazie Appunto A questo Ragazzo È stato Davvero Davvero Molto Molto Dolce E Gentile E Grazie Anche Per Bellissimo Bellissimo Non lo so In questo video Ho detto Solamente È Bellissimo 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 Non vedo Lora di Utilizzarlo Quindi Niente Io lo ripongo La sua Scatola Perché Ho davvero Paura Di fare Qualcosa Di male Ok Da qui Perfetto Allora Ragazzi Ragazzi Questo Era Un Video Per Sicuramente Anzi La prima Cosa Ringraziare Michael Del regalo Che Ne Hanno Fatto E Che Ci Hanno Fatto Tutti Quanti Anche A voi E Appa Se Grappate tema I video Avrete Una Qualità Migliore Audio Sicuramente Quindi Io Ringrazio Ti Ringrazio Tantissimo Ancora Tantissimissimissimissimissimissimo Non so Ancora Come Ringraziarli E Davvero Sei stato Gentilissimo E Dolcissimo Mai Me lo sarei Aspettata Quindi Sono Molto 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 contenta però appunto devo aspettare per fare nuovi video con questo microfono che mi arrivi l'adattatore perché senza adattatore non posso e Amazon ci sta mettendo un po' più di tempo perché stiamo tutti comprando da lì quindi devo un po' saltare e ragazzi grazie ancora di vedere i miei video, di supportarmi davvero questi regali mi fanno capire quanto ci segnate a me anche e quanto credete in me e quanto avete stima di me e questo per me è davvero importante davvero noi ci rilugiamo nel prossimo 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 video che sarà sicuramente a breve, anzi sincronizzatevi proprio perché non dico tutti i giorni ma ci saranno video ogni occasione buona per fare un video anche un po' caserecci anche se non c'è mamma mia anche se non c'è qualità comunque io ti voglio parlare sul mio canale anche per tenere un po' di compagnia quindi ci rivediamo presto 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 se non è ancora fatto attivare la campanellina ciao 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 ciao